Siamo con Samuel Costa dopo questo bellissimo podio in Val di Piemme, nella Team Sprint. Samuel, ti aspettavi questo risultato? Ma prima del salto ho detto che tutto quello che è sotto minuto va ancora abbastanza bene, avevamo 59 secondi. Ovviamente dovevo sperare che davanti non facevano un ritmo alto ed è andata bene perché hanno fatto un po' di tattica e questo ci ha agevolato molto. Abbiamo investito molto i primi due giri, dopo eravamo un po' cotti, però alla fine con Alessandro che è bravo nel finale siamo riusciti a fare questo terzo posto che ovviamente hai sempre la voglia, non è che speravo di fare il podio e alla fine ci siamo riusciti. Stai vivendo un bel momento, ieri per esempio settimo posto, la settimana scorsa hai detto un quinto posto, stai crescendo di gara in gara, hai anche trovato continuità. Sì sì, la stagione è iniziata abbastanza male ma dopo andava sempre meglio e sul salto cerco di saltare sempre a livello alto che per me è fondamentale, così dopo nel fondo riesco a stare con i primi e poi dopo ovviamente mi manca ancora un po' il finale però cerco di migliorarlo ogni giorno quindi speriamo che vada sempre meglio. Allora l'ultima cosa, dove può arrivare San Alcosta? Speriamo che arriva in cima, ovviamente lo sport è sempre imprevedibile, che puoi allenarti, allenarti però devi avere fortuna e tanta motivazione e devi dedicare molto tempo quindi se tutto va bene spero un giorno di riuscire anche a vincere una gara. Grazie mille.